Nel quadro delle relazioni internazionali le rivendicazioni della Russia non hanno fondamenta? La Russia indubbiamente è un grande paese, una grande potenza e ha diritto a vedere il rispetto dei suoi interessi, delle sue aspirazioni, anche della sua tradizione passata. Però quando parliamo di impegni, assicurazioni date relativamente all'espansione della Nato non possiamo dire che in passato c'è stato nulla di questo genere. Con Gorbaciov al momento della riunificazione tedesca i principali uomini politici dell'epoca effettivamente dissero, parlando, che le frontiere della Nato non sarebbero state, l'espressione era, non sarebbero state spostate di un pollice più ad oriente. Però né Gorbaciov volle mai delle garanzie scritte e né queste comunque furono date. Quindi questo rimane su un piano semplicemente colloquiale e non ha un valore vincolante dal punto di vista giuridico. Invece un impegno che fu assunto e messo su carta fu quello del memorandum di Budapest nel 1994, quando in cambio della rinuncia da parte dell'Ucraina del suo immenso potenziale nucleare che aveva ereditato proprio dall'Unione Sovietica furono garantite da parte di Stati Uniti, Inghilterra e Russia l'indipendenza e l'integrità dell'Ucraina. Gli scenari sono indubbiamente preoccupanti. La volontà e la speranza è quella della pace. Come si costruisce la pace? La pace non è nulla di scontato, la pace va costruita e la pace si può conseguire soltanto attraverso la trattativa diplomatica. Non certo con, non dirò il riarmo, ma con la fornitura di armi, che mi pare la via che la Unione Europea ha iniziato a percorrere. È una via pericolosa perché armare non tanto le forze armate e residue dell'Ucraina, quanto il popolo, significa soltanto allungarne in qualche modo l'agonia. Questo non deve però significare un cedimento di fronte all'evidente prepotenza dell'invasione russa, che non si può assolutamente giustificare né sotto il profilo del diritto internazionale, né sotto il profilo umano. L'unica via possibile è quella della trattativa diplomatica, del sedersi intorno ad un tavolo, comprendendo le ragioni di entrambe le parti.